Siamo tornati a Carpino dove oggi si celebrano due prodotti d'eccellenza di questo territorio, l'olio extravergine di oliva e le fave di Carpino, quest'ultimo prodotto Presidio Slow Food. Siamo con Tabita Gramazio che è una delle tante produttrici di fave qui a Carpino. Cosa rappresenta per voi coltivare questo prodotto tipico locale? Coltivare questo prodotto è tornare alle nostre origini, alle nostre radici. La fava di Carpino veniva utilizzata fin dai tempi antichi come prodotto per barattare. I nostri campi e il nostro microclima è favorevole proprio alla creazione di questo miracolo della natura perché la fava è ricca di dopamina, ha una buccia sottile e poco produttiva per andare su tutti i mercati. Per questo appartiene ad un mercato di nicchia. Noi abbiamo deciso insieme ad altri produttori, e siamo in cinque, di sostenere, grazie anche alla Slow Food, questo antico seme che per noi è un vanto. Una ricetta tipica a base di fava di Carpino? Le nostre fave si sposano un po' con tutto. Per quanto ci riguarda, quella che caratterizza il nostro comune è una fava cotta in maniera naturale, con una foglia d'alloro, lasciata bollire e cuocere a fuoco lento, e poi servita con un filo d'olio extravergine di oliva, cipolla, sempre locale, e un po' di origano selvatico. Come sono le fave? Le fave sono buonissime, e ogni anno vengo qui a Carpino a deliziarmi di questo piatto che lo trovo stupefacente, buonissimo. Un prodotto che andrebbe più valorizzato, vero? Esattamente, sì, bisognerebbe pubblicitare molto di più il territorio, e di conseguenza anche Carpino con questi prodotti speciali. Io vengo da Melbourne, Australia, vengo qua perché sono nato qua, sono nato a Carpino, nel 1951, e sono 56 anni che ci mancano. No, veramente sono venuto un paio di volte, ma 56 anni che sono andato via. Come la trova ogni qual volta viene qui? Sempre più piccola, però è sempre qua di dentro. Dalla fava all'olio extravergine di oliva, Carpino, è una delle capitali della provincia di Foggia per quanto concerne la produzione di olio. Siamo con Silvia Di Perna, produttrice, giovanissima. I giovani stanno credendo nell'agricoltura locale, e questo è già un successo. Poi la qualità dell'olio è quella che è. Certo, sì, infatti noi giovani, per quel che possiamo, cerchiamo di rimanere a Carpino e di dar valore alle origini. Infatti io in prima persona mi sono prodigata nel rimanere, infatti mi sono laureata a Foggia e sono la dottoressa di scienze agrarie. E quindi io, ancora grazie ai miei fratelli e ai miei genitori, stiamo cercando di riportare in vita quelli che sono i valori dell'antichità trasmessi dai nostri nonni, insomma da persone che conoscevano la terra, sapevano lavorare la terra, ma grazie al nostro studio, grazie alla nostra conoscenza del prodotto e delle notevoli qualità del prodotto appunto, possiamo andare avanti andando a valorizzare ancora di più quello che è l'olio d'oliva. Qual è la cultivar che si produce maggiormente qui? Beh sicuramente tra le cultivar troviamo l'oliarola garganica, ma ancora la coratina, il leccino, che sono tutte cultivar originarie del posto, in particolar modo l'oliarola garganica che eccelle in tutti i campi, in tutti i territori circostanti. Alla luce di questo caldo eccezionale, di questa siccità, che annata si prevede? Beh diciamo che l'annata non è una delle migliori appunto proprio a causa della siccità, però grazie agli impianti idrici e quindi grazie a tutte le innovazioni nel corso degli anni, stiamo cercando di andare incontro a quelli che sono i cambiamenti climatici e che poi potrebbero portare a uno scadimento sia qualitativo che quantitativo dell'olio extravergine d'oliva. Quindi per quanto vi riguarda non avete problemi di acqua? No, perché appunto in ogni terreno possediamo un pozzo artesiano da cui attingiamo per prelevare l'acqua e per poter far crescere al meglio il nostro olivo. Siamo ora con l'assessore all'agricoltura del comune di Carpino, Antonio Petracca. L'importanza a livello economico di questi due prodotti che oggi celebrate? Allora sicuramente la comunità carpinese fonda la sua economia e la sua cultura ovviamente dall'agricoltura. e nel tempo appunto sia l'olio in particolare e poi le fave che sono un prodotto che deriva da una cultura contadina antica si sono sempre contraddistinti per la loro qualità e per l'impegno che i produttori della nostra comunità ci hanno sempre messo per raggiungere livelli qualitativi non indifferenti. Quindi l'importanza di questi due prodotti è sicuramente indiscutibile e stasera appunto c'è qui la possibilità di poterli assaporare in un connubio perfetto quindi fava e olio extravergine e quindi siamo qui pronti ormai all'apertura della sagra della 25esima edizione della sagra dell'olio extravergine d'oliva di Carpino e della fava. Un altro dato importante è che su questi due prodotti stanno investendo tanti giovani. Sì, infatti negli ultimi anni c'è questo trend in crescita parecchie aziende stanno sia rinnovando la conduzione e parecchi giovani stanno intraprendendo proprio la strada dell'agricoltura quindi dell'imprenditoria agricola diciamo che ormai ad oggi non si parla più di contadino, di agricoltura ma di imprenditori agricoli quindi per andare avanti c'è bisogno necessariamente di fare un'evoluzione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista manageriale di un'azienda e negli ultimi anni dobbiamo dire che a Carpino c'è parecchio fermento da questo punto di vista tanto è vero che già negli ultimi due anni c'è stato addirittura un ingremento di produttori di fava di Carpino. Abbiamo presentato una manifestazione degna del nostro laboratorio culturale a cielo aperto che ogni anno si presenta nel nostro tabellone estivo. Dal punto di vista turistico questa è una delle sagre più attraenti tanta gente, anche tanti turisti Sì, abbiamo la fortuna di sfruttare un po' la costa garganica vicino Rodi Garganico, Peschici, Foce Varano, Rio del Sole, Torre Mileto, Capoiale e quindi praticamente c'è un flusso turistico di notevole interesse. Noi veniamo da Milano, esattamente da Cesano Maderno Come mai qui? Siamo qua perché abbiamo la casa abbiamo ereditato una casa alla mio papà che mio papà purtroppo non c'è più però il suo paese ci attira veniamo sempre tutti gli anni Come trovate questa sagra? Bellissima non possiamo mancare veniamo tutti gli anni Allora, che cosa state mangiando? La bruschetta, formaggio e olive Nelle campagne di Ustuni i campi vengono irrigati dall'acqua domestica purificata dall'impianto di acquedotto pugliese perché per noi sostenibilità non è una parola è una pratica quotidiana Grazie a tutti